Pokémon scogliera e Pokémon violenza nasce dal desiderio di Pokémon Company di creare un mondo di gioco ambientato in Italia. La mappa mostra la zona ad ovest di Los Cogliones, la scogliera rocciosa, piena di rocce rocciose. Vuoi trovare le scogliere rocciose fatti un panino alla kriptonite. La conformazione del colle e del sentiero formano un trio angolo. Palle, come già intuito il 3 agosto con il discorso del preside Teh. Dovete quindi prepararvi per assolvere degnamente questo nobilissimo compito. E invita i suoi cittadini a riplasmare il mondo. Cloth, il dominante delle scogliere rocciose. La cosa suggerisce di essere davanti a una creatura unica, è colui che ha in mano Lucifero. Praticamente sono dei testimoni di Geova. Non preoccupiamoci troppo della fine del mondo che arriverebbe dopo due settimane di gioco. Dichiara Nemi. Sarebbe la fine della umanità. Dopo questa frase il trailer ci mostra Dildi. Un inedito cazzo lungo. Tipo 30 centimetri. È il più lungo della storia però ci sta perché mamma e papà hanno un nuovo prosciutto. Non se ne fanno più niente di tutto il suolo di Paldea. Ma non è più corretto dire che Pepe si interessi alla Pepe cristallizzazione per direttissima. Sono passati da essere personaggi interessati alla panino cristallizzazione ad essere tutti e tre impegnati nella perdita delle gambe con una prosciutto cristallizzazione fuoco. Grazie. Grazie. Grazie.